Bentornati in questo nuovo video, sono Andrea Slayer Oggi siamo nel mio cesso Siamo nel mio cesso, tanto ero in bagno, ho appena finito, vabbè comunque ragazzi Come scaricare, dato che adesso i posti premium con la carta di credito falsa sono finiti e tutto esaurito Praticamente ragazzi si può, potete usare l'UFO VPN sul telefono Quindi andate ragazzi nel primo link in descrizione Aspetta, ecco nel primo link in descrizione troverete questo link Voi ci andate sopra, cercate Ok E vi manda in una pagina Scaricate questo qua Andate giù, andate giù, andate giù Save your file Faccia la croce in alto e adesso ce lo fa scaricare Vediamo qua Eccolo qua Lo scarichiamo ragazzi Spediamo che si installa ragazzi Ok Adesso lo apriamo Fate cancel Cliccate questo qua Aspettate un attimo Andate su Unite status E fate California Ok Connesso Adesso usciamo Lo teniamo aperto Andiamo su Che forse now Fortnite Gioca Aspettatevi Ascoltate questa parte ragazzi Aspettiamolo Che vuoi fai Sì Vabbè Vediamo che connessione ho Muovite Andiamo Adesso ragazzi Appena questo caricamento qua Diventa lento Appena si carica lento Appena si carica lento Andate qua Nel VPN Appena si carica lento Andate nel VPN E lo disconnette Lo disconnettete Dopo averlo disconnesso Andate su Che forse now Fate riprendi E poi va Io ragazzi Spero che questo video Sia piaciuto E noi ci rubriamo Come sempre Nel prossimo video Like Iscriviti Grazie